Aperta stamattina la bretella di via Sartania, un viadotto di 3,5 km che taglia via Agnano agli Astroni collegando Agnano con Pianura. Pensata come via di fuga in caso di eventi sismici, la bretella è stata realizzata dalla regione Campania con fondi europei. In attesa del collaudo definitivo, il Comune di Napoli ha stabilito un dispositivo temporaneo di circolazione che prevede fra le altre cose il limite di velocità a 30 km orari, il divieto di sosta e il divieto di sorpasso su entrambi i lati. Mancavano 300 metri di strada che adesso sono stati completati. Comunque è stata aperta la strada, il lavoro in realtà ancora non è terminato perché bisogna terminare tutti i collaudi della strada e delle opere, dopodiché verrà consegnato alla città di Napoli. Io spero che nell'anno 2017 si possa dire veramente fini anche dal punto di vista amministrativo prendendo tutta quanta questa vicenda e sicuramente prendendo un asse importante per tutti quanti questi territori, per il pianuro Egnano e per le vie di fuga dalla città di Napoli. I lavori saranno completati con interventi di tutela idrogeologica e con l'apertura di un parco urbano di 5 ettari.